Su Radiolinea numero uno torniamo a parlare di cinema, lo facciamo con Luca dei soliti cinefili, Luca già collegato con noi, ben trovato, buona domenica. Ciao Bea, grazie, buon pomeriggio a te. Allora, con Luca oggi facciamo una puntatina a Cannes, no? Facciamo un salto a Cannes, sì, perché ormai manca davvero pochissimo, il festival ormai è arrivato alla settantasettesima edizione, andrà in scena sulla chermessa francese dal 14 al 25 maggio, già annunciati film in programma, l'unico film italiano che abbiamo in gara, quindi in concorso, è Partenope di Paolo Sorrentino, film attesissimo sia da noi da parte qui dall'Italia che dal pubblico internazionale, perché ormai sappiamo benissimo che dopo la vittoria della grande bellezza di dieci anni fa, Paolo Sorrentino è diventato un regista internazionale a tutti gli effetti. Sì, che cosa ci aspettiamo? Tipo un'altra grande bellezza? Sai, perché poi lui fa sempre questi film un po' particolari, visionari. Sì, Sorrentino è un regista contemporaneo che riesce a trasmettere attraverso le riflessioni, attraverso soprattutto le immagini, quindi non tanto puntando sulla narrativa e sulla sceneggiatura del progetto spesso, riesce a trasmettere grandi emozioni. Io sono straconvinto che anche quest'anno con questo film riuscirà a trasmettere tantissimo e perché no, speriamo di portare a casa qualche premio. Certo. Poi, poi è stato, è già stato annunciato da qualche settimana la palma d'oro onoraria al papà di Star Wars, George Lucas. Eh, 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 bene, bene, bene. Era ora. E se la merita, dai, scusa, ma soltanto per quanti mille miliardi di follower ci sono in tutto il mondo, no? Sì, ha creato, non ha creato un solo film, ha creato un movimento, George Lucas, quindi eh, una palma d'oro strameritata, l'ennesimo riconoscimento a una carriera davvero gloriosa. Altra palma d'oro onoraria che verrà assegnata a camera sarà per lo studio Ghibli, quindi lo storico studio giapponese dove vengono prodotti film, spesso e volentieri del maestro Ayao Miyazaki, quindi i film anime, stiamo parlando di anime, riceverà la palma d'oro. Anche questo, mi vien da dire, è assolutamente meritato. Sì. È stato presentato il manifesto, questo da qualche giorno. Il manifesto è un omaggio ad Akira Kurosawa. Quest'anno Kan già ci sta dando davvero piccole chicche davvero notevoli. L'omaggio del manifesto è di un film di Kurosawa del del 91 che presentò proprio a Kan, Rhapsodia di Agosto, ed è un film eh che che racconta di una donna anziana che è sopravvissuta al bombardamento di Nagasaki e che cerca di trasmettere ai nipoti, nel film c'è anche Richard Gere, i nipoti quindi asiatici e anche statunitensi, l'amore contro la guerra. Quindi è un manifesto simbolico e attuale. Sì, sì. Purtroppo mi vien da dire. E beh sì, comunque si parla giustamente di tematiche attuali anche se poi riferite al passato. Io eh devo dirlo ai nostri ascoltatori oggi Luca sta facendo una fatica assurda a parlare. Mal di gola, che altro c'era? Freddore, influenza di tutto, però guarda, veramente sembra proprio la tua voce quasi quasi consueta. Detto questo, quali sono eh quelle due o tre chicche che ci hai riservato per questa domenica? Ma diciamo qualche news più che chicche, le chicche preferisco tenerle quando torno in studio. Ah ok. Le news recenti, c'è una news è molto molto carina che sono i trent'anni di Pulp Fiction. Si è tenuto a Los Angeles una reunion del cast e ovviamente con la visione del film di Tarantino erano presenti Uma Turman, Harvey Keitel, Samuel Jackson e John Travolta. Purtroppo non era presente Bruce Willis, che come sappiamo per le condizioni di salute e non era presente neanche Quentin Tarantino, che mi ricollego in settimana ha fatto un passetto indietro, perché siamo in attesa di The Movie Critic, che sarebbe l'ultimo, il decimo e ultimo film del regista, ma il regista ci ha ripensato, ha fatto un passetto indietro e sembra che il progetto sia stato accantonato. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. Comunque quando tante volte uno pensa a Hollywood e pensa a questi personaggi così, un po' stravaganti, tipo Tarantino, dice vabbè ma tanto questi sono tutti mezzi nati, cioè no? C'ha questa idea secondo me di base di alcuni di questi. Non trovi? Eh diciamo che sono star. Sono artisti come dicevo anche nel pomeriggio di ieri, sono artisti e agli artisti è concesso di fare qualsiasi cosa. Bene, un'altra news? Un'altra news veloce, il Thumberland Lodge che a molti questo nome non dirà nulla, quindi il noto Overlook Hotel di Shining ha preso fuoco e ovviamente speculazioni sul film maledetto di Shining e Stanley Kubrick, il web un po' si è scatenato dopo le varie news. Per fortuna non è successo nulla di grave, diciamo che i clienti che erano dentro l'albergo sono evacuati, non c'è stata nessuna vittima, le forze del vigile del fuoco hanno spento il fuoco, però è una news che sta facendo rumore perché Stanley Kubrick nell'ottanta sappiamo che ha diretto in quel posto proprio Shining, uno dei film probabilmente più maledetti della storia del cinema, dato che è un capostipite del cinema horror e ovviamente il web si è scatenato dopo questa news. Ma sì, poi chiaramente, poi c'è anche da dire che magari uno ha visto le magre finanze, sarà mica dovuto al fatto che l'assicurazione paga? No, non lo so, io butto là, però di solito queste cose sono tutti risvolti. È un hotel del 1937, quindi stiamo parlando di un hotel che ha circa 90 anni ormai, quindi può capitare. E può capitare, può capitare. Luca, grazie, rimettiti e la prossima settimana ti vogliamo qui in studio, come sempre per la nostra rubrica del cinema. Grazie. Grazie a te, tornerò sicuramente. Ciao. Ciao. Lab, lo spazio delle idee e della musica. Dagli anni Ottanta ad oggi. Il sabato e la domenica su Radiolinea numero uno dalle quindici con Beatrice Silenzi.